Benissimo, eccoci qua, allora stasera parleremo di Capture One Pro ed è una serata diciamo che era un po' una richiesta soprattutto per capire qual è la differenza tra Lightroom e Capture One. Come ben sapete insomma io uso bene o male Lightroom dalla prima versione beta del 2007 uscita appunto ormai 13 anni fa e ho sempre usato Lightroom nonostante appunto nei vari anni ho provato anche software concorrenti quindi dal allora purtroppo defunto Apple Aperture che diciamo poi è diventato quello che adesso è Apple Photo perché Apple Photo adesso ha preso tante funzionalità che aveva Aperture e Capture One diciamo che è sempre stato un software di riferimento. Allora Capture One nasce da questa azienda danese che si chiama Phase One la quale non solo fa il software ma anche produce fotocamere, produce anche dorsi digitali e quindi anche un'azienda proprio produttrice di macchine fotografiche e quindi loro sono partiti proprio con un loro software che serviva per lo sviluppo dei file delle loro fotocamere. Nel corso degli anni hanno deciso di aprire il loro software anche per lo sviluppo di RAW di formati di macchine diciamo in concorrenza con il loro brand e quindi l'apertura verso tutte insomma le varie fotocamere da Nikon, Canon eccetera eccetera. Allora la cosa interessante è questa che è Capture One tra l'altro ho ecco qui aperto già sul web la pagina e esiste diciamo in due o più versioni. Allora c'è la versione che si chiama appunto Capture One Express che è quella che appunto volevo anche parlare di questa sera che trovo molto interessante proprio per il fatto che la potete scaricare e provare anche da subito gratuitamente. Cosa vuol dire Capture One Express? Capture One Express vuol dire che la potete scaricare appunto e potete sviluppare i file praticamente RAW di queste tre fotocamere quindi della Nikon, della Fujifilm o della Sony. Se avete una fotocamera diversa nel caso che ne so c'ho una Leica io posso usare Capture One Express però posso sviluppare eventualmente JPEG. Quindi questo Capture One Express eventualmente si può applicare per lo sviluppo che sappiamo comunque essere molto più limitato su file JPEG però se c'ho da fare delle piccole correzioni ecco posso usare anche Capture One Express con qualsiasi JPEG. In questa pagina qui di Capture One Express vi mostra praticamente le differenze tra Capture One Express quindi versione gratuita e la versione pro commerciale a pagamento. Praticamente nella versione Express avete quindi tutte le funzionalità di base che vi mostrerò tra un secondo ma soprattutto la cosa interessante è che avete anche tutta l'opportunità di organizzazione praticamente dei cataloghi. Quindi potete fare tutto quel lavoro che praticamente si fa in Lightroom di archiviazione delle fotografie e lo potete fare già gratuitamente con Capture One Express. Questo è anche interessante perché uno magari inizia con Capture One Express e dopo nel momento che fa l'upgrade a Capture One Pro ecco non deve buttare via il lavoro che ha fatto e può continuare insomma a riprendere ecco quello che va già strutturato. quello che manca lo potete vedere qui tra i segni di spunto ovviamente nella versione base sono tutti gli strumenti avanzati di color editing l'editing sui livelli che è quello che vi mostrerò che secondo me fa una grande differenza anche rispetto a Lightroom tutti gli strumenti di correzione e clonazione il supporto per il tethering il tethering è tutta la funzionalità praticamente di scatto con la fotocamera collegata praticamente a un portatile questo serve di solito sui set per poter scattare e avere direttamente le foto in acquisizione direttamente al software e mancano tutte le maschere praticamente per avere i filtri graduali, i filtri radiali e tutte queste cose qui insomma ovviamente questa cosa è dovuta al fatto che si porta l'utente ad andare nella versione Pro è molto interessante un altro aspetto che Capture One presenta quindi la versione Express gratuita poi c'è una versione Capture One Pro che anche qui in questo caso può essere acquistato eventualmente il solo pacchetto corrispondente praticamente a una delle tre fotocamere che vi ho detto prima quindi un utente magari Fujifilm come nel mio caso può acquistare Capture One Pro Fujifilm il quale sarà praticamente vincolato allo sviluppo di FireRow unicamente che vengono fuori praticamente dalla macchina Fujifilm quindi questa può essere un'ottima opzione perché il costo risulta essere molto ridotto quindi se io ho solo FireRow che vengono fuori da macchine Fujifilm o Nikon o Sony che sono i tre diciamo per i quali si rivolgono queste versioni speciali posso usare queste versioni qua nel caso invece abbia un'altra fotocamera tipo le Canon, la Leica eccetera eccetera dovrò invece acquistare proprio Capture One Pro completo che a quel punto vi darà la possibilità di sviluppare qualsiasi file RAW allora andiamo e torniamo appunto a Capture One io ho la versione Pro completa proprio per il fatto che scatto con Fuji fin da circa 5-6 anni però in precedenza scattavo con Canon e in precedenza ancora con Pentax quindi capite bene che ho tanti RAW di fotocamere differenti oltre al fatto anche che Capture One Pro ovviamente può sviluppare file DNG eventualmente che escono da uno smartphone e questo può essere fatto appunto anche avendo la versione completa del software quindi non quella specifica per le varie fotocamere allora, volevo accennare un po' le differenze per farvi capire le potenzialità rispetto all'iTron una delle grandi potenzialità che trovo in Capture One rispetto all'iTron la possibilità di organizzazione dello spazio di lavoro l'iTron in un certo senso ha un'interfaccia che trovo molto semplice molto lineare, molto pulita però non dà grande possibilità di personalizzazione quindi voi non potete cambiare, spostare pannelli o riconfigurare la vostra interfaccia utente quella è e quella rimane in Capture One invece c'è una grandissima flessibilità quindi praticamente qui alla sinistra ho trovato una serie di pannelli che vanno a riassumere tutte le varie funzionalità che potete avere all'interno del programma la cosa bella qual è? che qualsiasi di questo pannello quindi andiamo qui dove c'è questa icona, avete l'istogramma ci sono gli strumenti di base, di sviluppo io ho uno di questi pannelli, per esempio vedete, lo posso prendere, trascinare fuori e quindi innanzitutto posso spostarlo e metterlo in un'altra parte di interfaccia dove magari mi trovo a essere più comodo nella visione ma soprattutto mi posso riorganizzare magari una parte di sé degli strumenti quindi potrei dire, guarda io voglio avere questo strumento qui più il bilanciamento del bianco tra l'altro vedete si possono anche attaccare e li posso mettere qui da parte in questa maniera qua praticamente io posso avere magari alla sinistra il colpo d'occhio su una parte degli strumenti alla destra su altri strumenti non solo, cosa succede? che queste icone qui, vedete è come se fossero già dei preset organizzati praticamente da Capture One voi però potete anche organizzarvi e crearvi proprio un vostro pannello quindi se faccio tasto destro e gli dico aggiungi praticamente strumenti vedete qui sono tutti gli strumenti che potete aggiungere a questi preset già pronti quindi se sono, vedete, nell'icona della lente gli posso dire aggiungi strumento per esempio, che ne so, esposizione e vedete esposizione si aggiunge a questo set qui quindi me lo ritroverò sia qui sia nell'icona precedente quindi vedete la cosa interessante è che io veramente mi posso personalizzare completamente l'interfaccia c'è veramente una grandissima flessibilità in tutto questo ovviamente adesso io per motivi di tempo non vado adesso a rearrangiarmi tutto però volevo mostrarvi questa cosa qui che già secondo me è una grande differenza rispetto all'iTroom la cosa interessante è che ecco, in questo in maniera similare a Photoshop dove anche in Photoshop uno si può organizzare l'interfaccia utente una volta che ho fatto questo io poi quando vado su finestra area di lavoro posso salvare la mia area di lavoro quindi infatti vedete che io ho qua una serie di aree di lavoro salvate con nomi, vedete, differenti io me la posso saldare quindi può essere richiamato oppure addirittura avete che ci sono delle aree di lavoro che sono state create automaticamente da Capture One c'è una semplificata, una matrimonio ecco, c'è una migrazione guardate, clicco un attimo che vi mostro interessante perché vedete si sposta tutti gli strumenti si spostano sulla destra in basso compare praticamente la barra delle fotografie e si chiama migrazione proprio per il fatto che vuole portarsi praticamente nell'idea di quello che è l'iTroom cioè vedete va proprio a riprendere l'interfaccia utente che abbiamo e che abbiamo in Lightroom quindi se uno vuole usare Capture One ma non vuole essere diciamo in un certo senso spaisato con l'area di lavoro appunto migrazione si ritrova praticamente in questo tipo di interfaccia che ricorda molto Lightroom ecco quindi a seconda dei gusti io devo dire la verità ormai mi sono abituato quindi ritorno sul predefinito quindi avendo la barra a sinistra e vedete che sulla destra io mi trovo praticamente la Filmstrip quindi la serie di fotografie che in questo momento ho importato nella mia libreria questa barra anche qui può essere nascosta o mostrata in questo caso con Control B o Command B per guadagnare ovviamente maggior spazio inoltre posso anche vedere tutte le fotografie in questa maniera qua anche qui la scorciatoria dovrebbe essere sempre il tasto G come nel caso di Lightroom io però l'ho configurata con un'altra serie di tasti e qui entra anche una grande differenza devo dire la verità rispetto a Lightroom quale? Questa qui guardate se voi andate in adesso la devo trovare vi mostro anche un altro segreto sul Mac se non trovate un menu basta andare in aiuto ecco qui e stavo cercando appunto la voce del menu che mi permette di modificare praticamente le combinazioni di tasti di shortcut da tastiera quindi vedete vado su aiuto ho scritto tastiera e mi dice guarda si trova in modifica modifica scelta rapide da tastiera ecco questa è un'altra grandissima differenza rispetto a Lightroom cioè voi potete assegnare a qualsiasi in combinazione da tastiera non solo non solo gli strumenti del menu ma anche le regolazioni proprie praticamente dei vari selettori quindi nel mio caso adesso vediamo perché non so se è collegato no è rimasto io mi sono configurato il tasto command perché io sono sul Mac adesso quindi command più option meno e più e vedete cosa mi fa mi alza praticamente e mi abbassa automaticamente l'esposizione della fotografia quindi è una gran cosa perché assegnando praticamente questi shortcut posso velocemente passare tra le varie foto e fare le correzioni usando queste combinazioni dei tasti senza spostarmi con l'icona del mouse andare qui spostare ritrovare quindi insomma la trovo soprattutto quando si vanno a post produrre grandi quantità di immagini risulta essere un vantaggio a livello lavorativo altra cosa che vi mostro che è un'altra cosa molto potente rispetto a Lightroom se avete presente quando siete in Lightroom e vedete le foto nella vista griglia non avete la possibilità di editarle quando sono così piccole ok cioè dovete ricliccare la fotografia andare nella vista praticamente di sviluppo e da lì fare le correzioni ora è vero che nella vista libreria potete fare delle correzioni veloci ok questo è vero però qui su ogni foto vedete praticamente rimangono abilitati tutti gli strumenti quindi posso fare qualsiasi regolazione che sia regolazione di esposizione contrasto luminosità curve vedete lo posso fare con le fotografie anche così così piccole e quindi lo trovo molto utile questa cosa perché tante volte magari per esempio adesso vediamo ecco qua diciamo questa serie di immagini qua una due tre e quattro vedete me le metto tutte con la vista praticamente allineata e adesso praticamente io posso fare delle modifiche per esempio di contrasto e andare praticamente ad allinearmi l'una all'altra a livello di luminosità e questa è una gran cosa ecco in Lightroom si può fare avere un riferimento di un'immagine nel modello di sviluppo però si può fare al massimo un'immagine qui invece ne posso fare avete visto tre o addirittura posso fare fin tanto che ho spazio insomma sullo schermo questo è un altro grande vantaggio che ho in Capture One poi guardate prendo un file così anche vediamo un po' alcune operazioni direttamente lavorando sul file anzi dovevo mostrarvi questo file pazzesco a livello di nitidezza questo l'ho scattato al scorso pt uomo a gennaio con una Fujifilm la 100 la 100 megapixel quindi volevo mostrarvi ecco il grado di nitidezza che c'ha sia la lente che il file è una cosa veramente impressionante e vedete questo è il file come viene fuori praticamente dalla fotocamera potreste dire che è un po' sottoesposto però in realtà se guardate l'istogramma vedete che è esposto correttamente guardate questo è uno degli sviluppi che ho fatto e questo è il primo quindi vedete anche come ho schiarito molto sia la pelle che anche i toni e ho tirato fuori il rosso adesso proviamo a fare uno sviluppo assieme perché poi tra l'altro come dico spesso praticamente lo sviluppo poi cambia con la giornata cambia con il mood un po' il gusto eccetera eccetera allora sono in questa icona dove vedete c'è un'icona proprio dell'istogramma anche se vi ho detto che tutti questi pannelli sono completamente riorganizzabili quindi io potrei prendere per esempio dal pannello colori il gruppo qui del bilanciamento colore prenderlo trascinarmelo fuori e spostarmelo qui nel modulo vedete del della correzione diciamo tonale quindi come vi ho detto è tutto completamente personalizzabile come anche l'ordine per esempio io di solito me le metto in ordine una delle cose che voglio avere più in alto è questo strumento qui valori tonali che se qualcuno di voi ha confidenza con Lightroom cioè guarda con Photoshop e lavora con Photoshop questo non è nient'altro che la regolazione dei livelli quindi la regolazione dei livelli vedete riprende l'istogramma infatti io cosa faccio per guadagnare spazio anzi sempre lo prendo questo qui basta dirgli rimuovi strumento me lo chiude perché l'istogramma praticamente è qui e vedete questa regolazione qua mi permette di spostarmi il punto di bianco spostarmi il punto di nero se ho bisogno di settarlo e di spostare il punto del grigio medio quindi vedete che posso modificare il contrasto il contrasto dell'immagine successivamente mi ritrovo praticamente qui le caratteristiche di base dove mi elenca la fotocamera che ho utilizzato ma soprattutto nel mio caso della fotocamera Fujifilm mi ritrovo praticamente il preset colore come da fotocamera quindi nel caso utilizzate un file per esempio della Sony o della Nikon qui troverete elencati o della Canon troverete elencati i profili colore della vostra fotocamera vi faccio un esempio perché se qui cambio vedete da profilo Fujifilm vedete qui vado a trovare elencate tutte le fotocamere che sono praticamente prese in considerazione dalla appunto dalla Capture One addirittura sto vedendo che ci sono anche dei profili colori per la Samsung questa è una gran cosa perché ho scattato tanto con le Samsung mirrorless quindi trovare i profili colori anche per le Samsung mi trova abbastanza sorpreso vedete ci sono anche le Pentax che sono le prime fotocamere che ho utilizzato ovviamente c'è Canon Nikon c'è anche Leica insomma ci sono tutti i vari Sony tutti i vari brand anche Zeiss allora quindi in questo caso qui vedete nel caso di Fujifilm i profili colore seguono i nomi delle pellicole proprio analogiche quindi la pellicola Astia era una pellicola molto utilizzata per appunto il ritratto infatti effettivamente vedete che dà un ottimo tono nell'incarnato Classic Cron una pellicola invece che riprendeva un po' il colore della Codacron quindi avete un tono più neutro e poi ho anche delle simulazioni vedete bianco e nero quindi eventualmente posso farmi anche bianco e nero direttamente con questi preset diciamo dei profili colore anche se io su questo lo sconsiglio magari su questo tema affronteremo un'altra serata ecco il velvia va bene per il paesaggio ma non assolutamente per questo tipo di fotografia e direi di partire in questo caso con l'Astia che come vi ho detto è il come posso dire il profilo colore che utilizzo di solito assieme ai classi Chrome nel caso di ritratto qui vedete ho il bilanciamento del bianco questo è assolutamente uguale a Lightroom quindi ho la possibilità di avere anche lo strumento eventualmente vedete per prendere un riferimento di bianco cliccando in un punto che so essere neutro all'interno della fotografia e guardate una delle secondo me delle altre grandi differenze ma magari ve lo mostrerò su un'altra immagine perché questa ha poco intervallo diciamo tonale è la regolazione che qui la chiamano HDR lo HDR è sempre un parolone perché sembra appunto la fotografia HDR in realtà sono proprio le regolazioni vedete come abbiamo in Lightroom per le alte luci le ombre il bianco e il nero quindi diciamo che la regolazione bianco e nero è la stessa regolazione del punto del bianco del nero che potete fare qui quindi vedete le due cose si vanno a in un certo senso a sovrapporre e come nel caso di Photoshop magari potete arrivare ad un risultato percorrendo differenti strade quindi questo fa capire veramente che anche qui Capture One ha tanti strumenti che poi vanno incontro un po' le varie esigenze poi di come uno si trova come si abitua diciamo nello sviluppo del file comunque volevo dirvi questo che gli interventi di recupero delle alte luci delle ombre in Capture One li ho trovati molto più fini rispetto a Lightroom cioè nel momento che io vado a aprire le ombre praticamente vado a recuperare le luci ottengo una fotografia molto più equilibrata rispetto a quello che ottengo di solito in Lightroom ecco devo dire questo a livello proprio di quello che ho trovato io insomma in questi anni di utilizzo di Capture One quindi avete già visto tra l'altro come la regolazione che ho fatto prima tra l'altro anche qui ho il tasto in alto prima e dopo vedete che mi permette di vedere il prima e dopo dell'immagine tra l'altro io abbosserò un attimo la temperatura di colore allora per chi si è commesso e si è perso la parte iniziale dicevo che un altro dei vantaggi di Capture One è quello di associare anche le scorciatoie da tastiera alle regolazioni quindi mi avete visto e mi state vedendo cambiare la temperatura di colore senza spostarmi vedete con l'icona del mouse qui sopra quindi vi chiederete come sto facendo sto facendo con i tasti da tastiera perché ho associato una combinazione di tasti che nel mio caso è Command Option Shift più quindi Command Option Shift più aumenta la temperatura di colore e Command Option Shift meno me la diminuisce se tolgo il mignolo dal Shift praticamente cambio l'esposizione ok se tolgo il dito indice rimane quindi solo il tasto Option in questo caso cambio vedete la tinta quindi questo è un sistema che mi sono diciamo creato per avere delle combinazioni da tasti molto veloci per poter editare le fotografie in maniera molto più rapida ecco anche questo rispetto a quello che facevo con Lightroom poi scendiamo perché vabbè chiarezza guardate questo è molto simile ovviamente a Lightroom sapete bene che c'è la chiarezza la struttura adesso mi avvicino per mostrarvi vabbè questo è un file veramente che c'è una nitidezza già pazzesca quindi non so direbbe da nulla struttura va vedete ancora più a evidenziare praticamente la texture della pelle e chiarezza invece va a giocare sulla tridimensione della fotografia diciamo sul macro contrasto invece molto importante guardate è lo strumento delle curve e qui c'è un'altra grande differenza rispetto a Lightroom allora in Lightroom abbiamo le curve si sa però non sono così raffinate diciamo come su su Capture One perché guardate qui noi abbiamo una curva del contrasto generale che mi permette di cambiare il contrasto quindi sappiamo bene che appunto all'aumento del contrasto quello che succede è che aumenta anche la saturazione dell'immagine quindi l'immagine diventa un colore più intenso però guardate bene se io voglio aumentare solo il contrasto svincolando praticamente l'aumento di saturazione c'è una modalità che si poteva fare in Photoshop cioè faccio la curva e metto il livello di fusione nella modalità luminosità ecco praticamente la curva di luma che sta qui accanto è la stessa identica cosa perché guardate se io faccio un intervento di contrasto praticamente non è aumentata la saturazione dell'immagine ok? e questa è veramente una cosa unica che ha Capture One all'interno dello sviluppo del Fire Row e che non ho trovato in altri software di sviluppo e poi vi mostro l'altra grandissima potenzialità che non ha Lightroom e che qui veramente si avvicina molto al concetto di Photoshop vedete che c'ho un pannello dei livelli quindi cosa posso fare quei livelli? posso fare la stessa identica cosa che faccio in Photoshop io posso crearmi degli strati con le varie regolazioni quindi di solito quello che io faccio è una base nella quale sviluppo la mia immagine quindi ho fatto una base di regolazione di contrasto magari delle ombre del colore e successivamente sui livelli staccati vado a intervenire magari in aree specifiche per esempio io vorrei adesso andare a schiarire un po' il suo viso cosa faccio? faccio questa cosa qui guardate allora vedete che c'è un segno più col segno più posso crearmi differenti livelli ok? quindi posso crearmi un livello vuoto immaginate che il livello vuoto è come in Photoshop il livello completamente trasparente dove non ho nulla oppure posso crearmi un livello che sia pieno cioè pieno trasparente un livello di clone e un livello di correzione ok? anche qui per chi usa Photoshop il livello clone praticamente sarebbe un livello dove posso usare il timbro e livello correzione un livello dove posso usare il cerotto allora guardate se io adesso mi creo un livello di regolazione pieno praticamente è come ripeto se avessi praticamente un livello trasparente però con una maschera attiva tra l'altro la maschera la posso vedere se premo il tasto M eccolo qua vedete tra l'altro di default la maschera viene verde anche qui sono tutte regolazioni che potete cambiare nelle preferenze quindi state in preferenze e andate su aspetto vedete il colore della maschera lo potete cambiare io l'ho cambiato da verde a blu quindi quando mostra tutto blu vuol dire che questa maschera si disegna praticamente su tutto il livello quindi cosa posso fare guardate posso fare questa cosa qui gli posso dire schiariscimi tutto con le curve ok e poi come in photoshop gli posso dire tasto destro sul livello inverti la maschera quindi è come se adesso questo livello effettivamente non fa niente successivamente cosa faccio praticamente su questo livello prendo un pennello con il tasto destro vedete posso molto semplicemente ingrandire il pennello farlo più morbido cambiare vedete l'opacità e adesso vedete diminuisco l'opacità e il flusso e a questo punto incomincio guardate sul suo viso pian pianino a disegnare posso anche zoomare e se attivo la maschera sempre col tasto M vedete che c'ho un po' di blu cioè vuol dire che sto creando praticamente parte della maschera e quindi sto schiarendo vedete pian pianino il suo viso e i suoi occhi allora devo dire che anche qui io c'ho un Mac di un iMac in questo caso di ultima generazione è un iMac 5K e la versione entry level comunque non è una versione top top quello che ho fatto è stato invece l'aumento della RAM quindi al momento viaggio con 64 giga di RAM che dovrebbe essere il massimo dell'espansione devo dire che le regolazioni anche quando ho cominciato a fare tanti pennelli eccetera eccetera funzionano ma non sono al stesso livello diciamo di fluidità di quello che vi trovate praticamente con Photoshop ok cioè funzionano perché guardate anche qui posso disabilitare e abilitare vedere quello che ho fatto però non ho il livello il stesso livello di fluidità che ho quando dipingo in Photoshop ok questo spero appunto che nei futuri aggiornamenti che faranno ecco nel caso di Apple dovrebbero andare a supportare proprio le librerie grafiche Metal per sfruttare maggiormente le schede grafiche perché al momento usano le OpenGL nel caso di Windows devo dire la verità che bisognerebbe un po' provare anche con le schede grafiche magari Nvidia se effettivamente c'è una maggiore ottimizzazione ecco e successivamente quindi vedete io ho questo livello che mi schiarisce il viso e successivamente potrei fare avete un nuovo livello in questo caso ho fatto un livello vuoto sul quale ci applico con lo strumento radiale guardate cosa faccio una vignettatura allora in questo momento è disegnata solo una maschera questa maschera è pronta ad accogliere le regolazioni che ci vogliamo mettere quindi su questa maschera io ci posso mettere o abbassare l'esposizione quindi vedete posso fare la vignettatura così oppure la posso fare anche con le curve quindi a seconda veramente di come uno si trova come è abituato e come vi ho detto questa è veramente la differenza che trovo tra Capture One e Lightroom che in un certo senso Capture One si avvicina molto di più all'idea di Photoshop cioè vi dà tanti strumenti col quale arrivare a un risultato e quindi sta a voi trovare poi un vostro flusso di lavoro un metodo col quale vi trovate diciamo più a casa ecco nella lavorazione nella lavorazione delle fotografie per concludere su questa foto poi vi mostrerò ancora un'altra foto andremo dal ritratto al paesaggio voglio mostrarvi anche gli strumenti di regolazione del colore che anche qui sono notevolmente più avanzati rispetto a quelli di Lightroom allora guardate strumenti di colore li trovate nell'icona vedete qui in alto a sinistra dove ci sono questi tre tondini tra l'altro vedete che qui si riprende lo stesso pannello dei livelli quindi vedete sono praticamente duplicati come vi ho detto posso dare strumenti che si duplicano perché come vi ho detto io posso avere convenienza lavorare da una parte lavorare dall'altro o addirittura questi qua possono essere cancellati pubblicamente ricrearmene io ex nuovo ok addirittura cambiando anche l'iconcine qui in alto quindi vedete qui c'è editor colore che tiro fuori ecco qui lo metto attaccato qui in basso e praticamente editor colore presenta tre tre parti ok allora la parte che si chiama di base che hanno introdotto da capture one versione 20 che è praticamente una copia veramente una copia pari pari di quello che c'è in lightroom cioè proprio hanno fatto non posso non so se può dire un plagio però è veramente la stessa identica cosa perché se avete presente in lightroom avete praticamente le iconcine con i vari colori che sono suddivisi in tonalità saturazione e luminanza quindi voi volete cambiare che ne so il colore del rosso andate nell'icona del rosso e cambiate questa cosa qui oppure potete prendere l'iconcina il picker andare sul colore direttamente sulla foto e vedete se io vado trascino verso il basso vado a diminuire o aumentare la saturazione di quel colore se invece vado verso sinistra o verso destra vado a scurire ok quel colore lì allora nel caso di questo rosso di questo cappotto questo colore non è composto solo da questo rosso ma ci saranno anche delle parti di arancione allora voglio mostrarvi per esempio che avanzate in questo caso ci dà maggior intervento perché guardate cosa posso fare io posso dirgli campione il colore ok gli posso dire mostrami andando a togliere in bianco e nero il resto dei colori quindi mostrami il colore che hai campionato e a questo punto andare a restringere andando a operare vedete con questa con questo praticamente selettore posso andare a restringere praticamente il colore in modo tale vedete che lui adesso mi ha campionato anche il rosso delle labbra vedete posso andare ad escludere il rosso delle labbra e guardate non è finito perché io adesso vedo che ho praticamente campionato solo il colore del cappotto benissimo quindi cosa posso fare una volta che ho campionato il colore del cappotto bene ho tolto vedete questo strumento che mi metteva in bianco e nero il resto ok che non era campionato io posso fare un po' le regolazioni che siamo abituati in Lightroom quindi gli posso dire cambiami eventualmente la tonalità cambia veramente poco cambiami la saturazione vedete sta cambiando la saturazione dei toni soprattutto in basso e cambiami la luminosità allora devo dire la verità che forse abbiamo escluso un po' di più valori allora prendiamo un po' più ampia la selezione ecco qui e guardate una cosa che veramente anche qui è unica è la seguente che una volta che voi avete praticamente praticamente quella che avete adesso è come se fosse una maschera ok una maschera di questo su questo colore voi potete trasformare praticamente questa maschera in una selezione da mettere su un nuovo livello quindi guardate potete dirgli su questi tre pallini crea livello con maschera dalla selezione lui fa il processo ci mette due secondi anzi cinque secondi eccolo qui e io mi trovo vedete un nuovo livello di regolazione dove se premo il tasto M vedete mi mostra la maschera ecco M è per mostrare la maschera e blu dove blu vuol dire il disegno della maschera e la figata qual è che adesso essendo questa una maschera io posso prendere il pennello il pennello può essere col tasto B B sarebbe brush pennello I il tasto E sarebbe praticamente il tasto per cancellare quindi se io premo con E e vado ad ingrandire il pennello posso cancellare se aumento la opacità il flusso vedete posso cancellare le parti che non voglio essere influenzate praticamente dalle mie regolazioni quindi posso anche cancellare qui delle mani stando attenti poi di non strabordare troppo sul cappotto ecco qui e adesso quindi io mi ritrovo una maschera sul mio cappotto che posso fare quello che voglio perché su questa maschera posso fare tutti gli interventi che sappiamo quindi posso vedete lavorare con le curve quindi fare molto più chiaro molto più scuro posso lavorare anche con la chiarezza vedete se voglio dare tridimensionalità solo in quella zona lì posso eventualmente togliere saturazione e quindi va veramente oltre alla sola regolazione del colore io posso fare veramente tanti tanti interventi ecco sopra questo questa zona che ho selezionato grazie al grazie al colore bene insomma su questa immagine mi fermerei perché adesso vorrei mostrarvi su un'immagine di paesaggio quindi ecco andrei su una tipo questa qua ecco qui io voglio mostrare praticamente di nuovo quello che si può fare ma soprattutto quello che vi dicevo prima degli interventi praticamente sul modulo HDR appunto dove si vanno ad aprire le luci e le ombre quanto secondo me più raffinato è la regolazione che in questo caso in Capture One rispetto a Lightroom allora c'è da dire un'altra cosa tra l'altro anche qui che ho notato che già i RAW di partenza quando li prendo in Capture One e Capture One applica dei loro profili colori di base perché Capture One comunque sviluppa per ogni fotocamera un suo profilo colori di base quindi vedete che io in questo momento identifica la fotocamera che da una X-T2 però applica praticamente un preset diciamo un profilo colori di base devo dire che questi profili colori di base li ho trovati sempre molto molto accurati praticamente con qualsiasi fotocamera sia che aprissi praticamente dei file con la Canon dei file con la Pentax sono sempre veramente molto cioè sono davvero un'ottima base ok quindi guardate in questo caso quello che farò sarà un attimo controllare appunto i valori tonali della mia immagine quindi vedete magari ci manca un pochino un pochino di bianco ecco qua sposto il punto di bianco e poi mi sposto nel modulo HDR perché voglio mostrarvi appunto l'apertura delle ombre come vedete va ad agire principalmente proprio in questa zona qui preservando completamente il contrasto praticamente dei toni scuri e su questo veramente lo trovo lo strumento molto molto bilanciato e nel mio caso vado a mettere profilo colore velvia che nel caso di Fujifilm va a dare un colore e un contrasto assolutamente più elevato e dandogli praticamente una curva in questo caso qui vedete vado a ridare un pochino di contrasto che a sua volta mi porta anche di nuovo fuori un po' di saturazione ok successivamente quello che potrei fare è un nuovo livello di regolazione e come ho fatto prima praticamente con i pennelli lavorando con delle curve di luma perché le curve di luma abbiamo detto non vanno ad aumentare la saturazione quindi non vanno a cambiare il colore posso andare praticamente a fare lo stesso processo che facciamo in Photoshop che è quel processo che si chiama il dodge and burn ok cioè praticamente il brucia e schiarisci cioè cosa vuol dire se faccio un livello questo qui praticamente lo chiamo schiari anzi scusate devo abbiamo detto che devo fare un livello nuovo ma pieno ok e questo lo chiamo schiarisci ecco qua faccio una curva facciamo una curva che schiarisce tipo così vi dico tasto destro scusate non cambia il nome tasto destro inverti maschera e a questo punto tasto B che sta per brush il mio pennello lo ingrandisco con opacità molto bassa ok tra l'altro guardate nelle opzioni potete anche attivare se avete la penna la tavoletta potete attivare la pressione e quindi pian pianino ora vedete sembra che non sto facendo niente ma questo è il punto di usare opacità basse perché dovete pian pianino andare a costruire queste zone dove andate a schiarire ok magari posso schiarire anche delle parti di cielo e a scurire tra l'altro vedete io posso anche qui fare prima e dopo così vedete che effettivamente state facendo qualcosa però vi ricordo la regolazione deve essere piccola dovete farla pian pianino costruendo ok la regolazione stessa guardate vi mostro ancora un'immagine di paesaggio e con quella poi direi che oggi possiamo concludere e anzi passeremo alle domande e poi concluderemo volevo mostrare proprio questa immagine fatta sul lago di Braes e allora devo dire che una una delle mancanze che trovo il momento in Capture One può darsi magari che nelle prossime versioni lo andranno ad implementare e manca quello strumento praticamente che raddrizza l'immagine praticamente con un click che c'è in Lightroom ok qui manca quindi se voglio raddrizzare l'immagine c'è questo strumento che si chiama ruote capovolgi dove semplicemente gli vado a dare per vedete con questo slide oppure con il campo qui a lato di quanti gradi voglio raddrizzare praticamente la mia la mia immagine c'è inoltre uno strumento per correggere la prospettiva adesso qui non so se c'è delle immagini di architettura dove c'è delle linee sì ci sono qui posso mostrarvelo qui si trova qui in alto vedete sperate adesso mi è comparsa e voi non lo vedrete ma è comparsa a me l'icona di zoom eccolo qui queste due icone vedete con le due linee e praticamente questo funziona che io mi sposto queste due linee agendo su questi due pallini me le sposto in prossimità delle linee che so essere verticali in questo caso qua ecco qui gli clicco su applica e lui vedete mi va a raddrizzare l'immagine quindi non c'è quello strumento favoloso automatico che c'è in Lightroom manca e lo devo fare a mano ok quindi bisogna essere un po' un po' meno pigri allora torniamo all'immagine qui di di bryas perché voglio mostrarvi di nuovo secondo me la qualità che abbiamo nel recupero delle alte luci delle ombre perché guardate vedete quando io recupero le alte luci qui vedete che fa veramente un ottimo lavoro di morbidezza senza avere tante volte Lightroom noto degli scatti un pochino troppo adesso non so come spiegarlo perché sono quelle cose un po' come un po' la musica no? è difficile trovare le parole però penso che anche voi magari quando utilizzate Lightroom poi da anche tanti di voi lo usano da anni sanno un po' come funziona l'algoritmo e quando si lavora sulle luci sulle ombre si riesce a prevedere un po' il risultato di quando si muovono si muovono gli slide quindi vedete già con questa operazione praticamente queste due operazioni ho reso l'immagine più morbida poi vado a applicare il mio profilo colore in questo caso andrò a mettere Astia ok e guardate anche qui mi posso fare un nuovo livello su questo nuovo livello ci vado a mettere un filtro graduato questo è uguale praticamente a Lightroom però praticamente la differenza di nuovo è che la posso mettere su un livello ok su questo livello posso di nuovo regolare vedete le luci recuperare le luci eventualmente aumentare o diminuire il contrasto ma soprattutto così qua vi mostro un'altra ultima cosa spero di non farvi però una testa tanta c'è questa cosa favolosa che si chiama il bilanciamento del colore che guardate può essere suddiviso come colore principale che quindi vuol dire che si applica su tutto oppure regolazione solo sulle ombre su mezzi toni o sulle alte luci allora in questo caso siccome stiamo agendo adesso solo su questa parte qui perché c'è il filtro graduato vado ad usare praticamente lo strumento principale quindi cosa posso dire guarda voglio che questa parte qui in alto me la fai più calda quindi vado ad agire guardate andando nella direzione più dei rossi e quindi vedete come si sta scaldando questa parte qui delle rocce questa parte qui del cielo ok e quindi questo questi strumenti qui li trovo veramente molto molto utili quando voglio bilanciare maggiormente il colore della fotografia tra l'altro guardate vedete sono sul livello quindi se io vado sullo sfondo fate attenzione clicco livello sfondo vedete che questa regolazione si è azzerata perché il livello sopra il livello di regolazione 1 c'ha la regolazione il livello sfondo non ce l'ha quindi vuol dire che ogni livello può avere la sua regolazione quindi posso dire sullo sfondo per esempio nelle ombre voglio anche qui che mi togli un pochino di blu dalle ombre per togliere il blu vedete che anche qui è molto visuale perché se tolgo il blu devo andare nella direzione opposta quindi vado verso i toni caldi e vedete che praticamente rendo le mie ombre più calde e meno blu ok successivamente quello che potrei fare per esempio di nuovo mettere un nuovo livello di regolazione ecco qui è come photoshop vi consiglio poi di rinominarli perché se no non vi ricordate quello che fa uno quello che fa l'altro quindi uno l'ho chiamato sì l'ho chiamato cielo l'altro barca perché quello che vorrei fare adesso prendere un pennello vedete anche qui posso prima disegnare eventualmente la maschera anche qui adesso magari aumentiamo un pochino l'opacità perché se no finiamo domani mattina ecco qui vedete che sta controllo con il tasto M che mi visualizza la maschera quindi per controllare effettivamente che sto disegnando qualcosa ecco qui e una volta che ho la mia maschera disegnata qui premo il tasto M per togliere la visualizzazione posso siccome sono su un livello dirgli eventualmente di aumentare avete il contrasto ed aumentare la saturazione solo di queste barche quindi al final non era solo una barca ma ho fatto su tutta la linea delle barche stessa cosa potrei fare di nuovo ancora un nuovo livello che chiamo luminosità lago sulla quale di nuovo in questo caso faccio un pennello un po' più grande molto morbido disegno un po' in queste zone tasto M per mostrare la maschera disegno qua disegno un po' qua ecco qui M rimascondo vado su Luma curva di Luma e schiarisco un pochino vedete per dare l'effetto insomma che d'acqua sia ancora più verde verde smeraldo quindi guardate senza con ok benissimo io parserò adesso alla sessione di domande allora domande che potete fare via vocale anzi vi invito così ci sentiamo praticamente barra spazio premuta sulla tastiera si attiva il microfono e quindi potete fare la domanda se invece siete più timidi potete farlo nella chat ok c'è la chat lì a lato dove anche Lorenzo ha scritto ciao prima e potete anche scriverle lì quindi prego domande non abbiate paura vado io sono Alessio ciao Alessio ciao carissimo sì più che una domanda diciamo una conferma ti chiedo una conferma è interessante lo strumento dei livelli che effettivamente non c'è su Lightroom quindi mi viene ho capito che quando vado ad applicare un effetto ad esempio un filtro graduato oppure vado con il pennello su Lightroom aggiungo con il più aggiungo più pennellature tipo le barche oppure il cielo e mi rimane il pallino mentre qui non è così ma crea un livello per ogni regolazione specifica voglio fare esattamente esattamente il risultamento di questi livelli è questo perché io Photoshop lo utilizzo pochissimo lo utilizzo solo Lightroom praticamente quindi i livelli non mi è molto diciamo abituato a usarli però ho capito così va bene sì 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 infatti guarda la metafora dei livelli è molto semplice in realtà immagina che tra l'altro vi chiedo state sentendo bene vendo bene perché mi è arrivato un messaggio di Zoom dicendomi che la mia connessione è un po' non stabile quindi spero che sia tutto quanto corretto che mi vedete mi sentite correttamente comunque la questione dei livelli praticamente o anzi la metafora dei livelli che io spiegavo quando facevo il corso di Photoshop è praticamente immagina come dei è stato un attimo che avevi la voce allungata ah ok adesso come mi sentite bene? datemi conferma datemi conferma se qualcuno di voi magari me lo può dire anche con il microfono sì ora ora meglio prima ti eri bloccato col video e l'audio si sentiva rallentato ok ok la connessione si vede il temporale anche che sta qui a Firenze boh non si sa comunque dicevo la metafora dei livelli sono praticamente i fogli di acetato ok quindi adesso immagina un foglio di acetato trasparente dove tu ci disegni un qualcosa poi qualcosa si vede solo in quella parte lì tu ci puoi mettere un altro foglio di acetato trasparente sopra disegnarci da un'altra parte e tu vedi praticamente per trasparenza dall'alto al basso tutto quello che hai disegnato quindi se tu metti un foglio di acetato sopra e ci disegni sopra tutto vai a coprire praticamente i livelli sotto quindi qui è la stessa identica cosa come anche in Photoshop in Lightroom funziona appunto che ogni volta che tu disegni un pennello si crea un pallino e quindi loro non sono andati nella metafora dei livelli ma sono andati con questa metafora che ogni volta che fai una regolazione si crea un pallino che è un altro modo di lavorare non dico che sia che sia sbagliato perché comunque funziona però diciamo che nel momento che vai a mettere tante regolazioni forse il casino è poi ritrovare i pallini andare a ricliccarli tante volte anch'io dovevo ricliccare aspetta è questo pallino qui perché poi il pallino si mette nel punto dove tu hai iniziato a disegnare e quindi tante volte magari questo disegno ti prende su più parte dell'immagine e quindi insomma è un pochino più incasinato secondo me però detto questo funziona anche benissimo in Lightroom altre domande? No direi Son Pasquale la cosa più interessante effettivamente è che tante funzioni che noi utilizzatori del pacchetto Lightroom più Photoshop siamo costretti a fare su Photoshop qui le hanno implementate direttamente nel modulo di sviluppo del RAW sia ad esempio questa tipologia di bilanciamento colore più ampia l'utilizzo dei livelli per per le regolazioni che ti permette di accedere a tutti i parametri che hai a disposizione non solo a quelli che ti si aprono sul sullo specifico menu questo sicuramente è interessantissimo ero curioso di un aspetto che non ci hai fatto vedere che è quello delle regolazioni delle correzioni dell'immagine tipo dove devo andare a cancellare un difettino ho la possibilità di avere anche in quel caso la funzione maschera per aggiungere la possibilità di mascherare dove magari trovo che la correzione non abbia funzionato bene oppure allora ti dico la verità proprio la versione che hanno fatto due settimane fa un aggiornamento che si chiama la 13.1 hanno migliorato lo strumento praticamente sia del clone che del cerotto ok quindi funziona così praticamente tu nel momento che prendi il cerotto ok praticamente hanno copiato come funziona in Lightroom perché guarda se io incomincio a disegnare sulla barca innanzitutto non so se hai notato si è creato automaticamente un livello di correzione poi guarda disegno diciamo su queste barche una volta che ho finito di disegnare su queste barche lui automaticamente vedi crea è più uguale identico Lightroom crea un pallino con la freccia dalla quale lui dice che va a campionare ok se voglio togliere altre cose tipo questi di nuovo se io ridisegno sono sempre sullo stesso livello e lui prende un altro punto in questo caso di campionatura che eventualmente posso prendere e spostare non ho in questo caso la possibilità di lavorare con una ulteriore maschera per eventualmente andare a sfumare o a fare altre cose ok quindi in quel caso la correzione è molto simile cioè come approccio a quella che fa Lightroom sì esatto ecco su questo devo dire la verità che non c'è assolutamente un vantaggio anzi Lightroom ha un algoritmo che è forse un pochino più veloce cioè nel momento che io disegno vedi che ci passa un mezzo secondino nel quale lui sta cercando il pallino che tra l'altro adesso mi è anche scomparso non so dove sia finito quindi ti dico su questo Lightroom forse un pochino più veloce e più preciso c'è da dire però vedi che qui tasto destro ecco vabbè comunque anche in Lightroom puoi regolare insomma l'opacità il flusso la durezza insomma sono praticamente al pari su questo no no ok grazie prego altre domande ragazzi allora guardate sono altre domande innanzitutto per la partecipazione questa comunque è veramente una prima serata che ho dedicato Capture One perché la mia idea comunque sarà continuare a mostrare ma non perché voglio convertire la gente da Lightroom in Capture One anche perché insomma sapete bene sono da anni ecco che insegno il corso di Lightroom e penso anzi che Lightroom sia lo strumento migliore per il pubblico diciamo consumer ma soprattutto per il fatto che Lightroom trova un'interfaccia forse un pochino più semplice da da masticare per uno che magari si approccia proprio all'inizio oltre al fatto che Lightroom avete la versione per mobile quindi qualsiasi dispositivo che sia l'iPhone l'iPad oppure Android lo trovate e lo potete utilizzare mentre Capture One al momento non ha una versione mobile dall'altra parte però avete visto che Capture One strizza l'occhio ad un utilizzo un pochino più professionale ed è come se andasse a fondere le funzionalità di Lightroom con delle funzionalità di Photoshop oltre ad avere degli algoritmi di gestione del colore più raffinati vi devo dire la verità che io sono passato Capture One soprattutto per l'aspetto del colore cioè poter gestire in maniera migliore il colore della fotografia quindi sia i colori che mi vengono fuori dalla fotocamera ma anche queste regolazioni parziali questo strumento come vi ho mostrato di bilanciamento del colore con questa ruota è una diciamo una funzionalità un pochino più professionale rispetto a quello che posso fare con Lightroom però detto questo sono due strumenti assolutamente favolosi anzi io vi dico sono passato penso un anno ho fatto tra uno e l'altro cioè saltavo facevo un po' Lightroom un po' Capture One volevo vedere veramente qual era lo strumento migliore per il mio lavoro a un certo punto ho deciso basta e ho deciso dall'inizio di questo 2020 di utilizzare solo Capture One e quindi pian pianino mi sto convertendo anche tutta la mia libreria vecchia da Lightroom in Capture One detto questo però ripeto Lightroom continuerà il problema è un po' forse vedere quale sarà la direzione di Adobe perché sapete che anche Lightroom c'ha il Lightroom Classic che è diciamo il Lightroom vecchio e il Lightroom nuovo e sembra che la strada che spinga Adobe sia verso il Lightroom nuovo è molto cioè come funzionalità di sviluppo è al pari dell'altro quello che gli manca è tutta la parte di archiviazione ecco qui oggi non vi ho mostrato niente di archiviazione però Capture One ha gli stessi strumenti praticamente di Lightroom Classic quindi potete importare le foto tra l'altro anche qui avete due modalità di gestione avete il catalogo avete le sessioni adesso non vado ad entrare su questo argomento perché magari sarà argomento di un altro webinar però veramente è un software che presenta tante funzionalità senza dimenticare una cosa Capture One lo potete comprare e tenere con versione diciamo perpetua quindi non siete eventualmente legati all'abbonamento mentre Lightroom sapete che ormai avete l'abbonamento Creative Cloud con il quale in vero costa solo 12 euro al mese però siete legati nel momento che voi smettete di pagare l'abbonamento purtroppo non potete più utilizzare Lightroom mentre qui se non decidete di rinnovare l'anno dopo nell'aggiornamento comunque potete continuare a usare Capture One senza sborsare poi un euro oltre al prezzo del software insomma ricordo quello che ho detto all'inizio che magari non c'era Alessio e Pasquale collegati che esiste una versione comunque express gratuita per chi ha le fotocamere appunto Sony Nikon e Fujifilm quindi potete sviluppare i RAW gratuitamente con queste tre fotocamere oppure potete fare le regolazioni di base con i JPEG di qualsiasi fotocamera ok quindi state su Capture One c'è anche una pagina dove dimostra quello che c'è nell'express versione gratuita o quello che c'è nella versione pro completa ok se poi ripeto ci sono altri dubbi domande me lo chiedete anche privatamente via messaggio insomma e così via